Della partenza di Beppe Scienza da Monopoli ne abbiamo ampiamente parlato, ma è chiaro che il suo non sarà mai un addio, considerati i rapporti che ha stretto con la tifoseria bianco-verde, ma soprattutto con l'ambiente. Eccolo qui al matrimonio di Marco Amatulli, addetto stampa del club. Il tecnico di Domodossola ci ha tenuto particolarmente a restare in Puglia per festeggiare l'evento con i suoi amici, ma la sua destinazione è Vercelli, con la Pro Club col quale ha fermato un contratto biennale. Scienza ha segnato una pagina importantissima della storia della società barese, ma ora questa pagina bisogna inesorabilmente voltarla. Non solo Stefano Sottili o Salvatore Sullo, al vaglio del duo Lopez e Laricchia, ci sono anche Marco Marchionni, Giuseppe Raffaele e Vincenzo Maiuri. Nelle ultime ore sta anche circolando il nome di Bruno Trocini, ex Virtus Francavilla. È chiaro che la società bianco-verde stia cercando un profilo di allenatore motivato, ma soprattutto che sappia lavorare con i giovani, perché il progetto per la prossima stagione girerà soprattutto attorno alla valorizzazione degli under. Intanto la Lega Pro ha lanciato il brand E-Serie C ai nastri di partenza. Ci sarà anche il Monopoly.